Oggi siamo a Fondo Basile, è una storia lunga quella di Fondo Basile, inizia nel 2002 quando le baracche vengono demolite, poi nel 2006 il vecchio sistema di risanamento predispone un progetto per costruire 60 alloggi, questo progetto deve ottenere i finanziamenti, nel frattempo i prezzi devono essere revisionati, siamo arrivati per farla breve nel 2024, nel 2024 dopo aver l'ufficio del commissario predisposto un progetto esecutivo per la costruzione di 60 alloggi, nella fase delle indagini nel sottosuolo ha scoperto che anche qui purtroppo ci sono dei veleni e bisogna bonificare. Oggi consegniamo i lavori all'impresa Cericola che si occupa per conto dell'ufficio del commissario avendo vinto una gara di 13 milioni di euro dell'attività di bonifica che durerà 150 giorni e che costerà 2 milioni e 800 mila euro, almeno questa è la previsione. Ormai le parole non servono più perché quello che conta sono i fatti e i fatti ci dimostrano che il 2024 veramente è stato ed è un anno mirabilis per il risanamento perché voglio ricordare che questo è il settimo cantiere che in questo momento la struttura del commissario apre nella città a nord, al centro, al sud, bonifica, demolizioni, riqualificazioni e a fine anno dell'anno mirabilis arriveremo a 12 cantieri aperti contemporaneamente, quello che non si era mai visto sul risanamento e questi sono gli effetti della legge del 2021 che finalmente ha consentito attraverso il conferimento di poteri derogatori speciali all'ufficio del commissario con l'istituzione di questo ufficio particolare che si occupa dalla mattina alla sera, tutti i giorni della settimana, tutti i mesi a questo atavico problema che sono le famose 80 baraccopoli di Messina ma soprattutto circa 6.000 persone, 2.000 famiglie che vivevano e che alcune ancora continuano a vivere nelle aree degradate ovviamente massima soddisfazione, speriamo come dire che da qui a dicembre di aprirne altri tre cantieri e chiudere il 2024 avendo la consapevolezza di avere fatto il massimo che era possibile fare per il risanamento e per risolvere questo grande problema